Benvenuti a meteogioliaci.it. Dopodomani lunedì 22 luglio, sereno dalle Alpi alla Sicilia per merito del ritorno di un'alta pressione sulla penisola. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, vedete un'Italia completamente sgombra da nuvole. Che tempo allora farà nella giornata di lunedì? Vedete il sereno proprio su quasi tutta l'Italia, a parte qualche nuvoletta innocua sulle Alpi occidentali e sulla Valdosta. Uno sguardo alle temperature, temperature massime tra 30 e 32, 33 gradi e con qualche punta anche di 34 gradi. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.